Ciao a tutti e benvenuti al quinto videocorso di PHP quest'oggi affronteremo l'argomento dei cicli i più conosciuti sono i cicli FOR e WHILE anche se ce ne sono altri come ad esempio il DO WHILE anche se viene molto meno utilizzato cosa sono i cicli? semplicemente delle porzioni di testo che vengono ripetuti per un tot di volte a noi necessario ad esempio in questo script che noi andremo adesso a creare andremo appunto a vedere come stampare a video il contenuto di una variabile incrementata per 10 volte ovviamente è un esempio in cui nella realtà non avrà molto senso farlo tranne in rarissimi casi però comunque a livello di studio ci fa ben capire concettualmente a cosa servono i cicli iniziamo con il ciclo FOR il ciclo FOR richiede tre parametri il primo è il parametro contatore che spesso troverete sempre identificato con una variabile chiamata X in questo caso assegniamo al valore contatore il numero 0 mettiamo 0 è il punto di partenza del nostro contatore il secondo parametro richiesto è la condizione quindi ripeti il ciclo finché X è inferiore o uguale a 10 punto e virgola e andiamo adesso ad identificare il terzo parametro che per l'appunto è l'operazione che deve essere effettuata di incremento e di decremento sul nostro contatore in questo caso ci serve che il nostro contatore venga incrementato di 1 diciamo nel corso della precedente lezione abbiamo già visto gli operatori logici quindi comunque già dovreste essere in grado di interpretarli comunque ad ogni modo vi rispiego un attimino in questo caso abbiamo utilizzato un operatore logico di assegnazione quindi abbiamo assegnato al contatore X il valore 0 nel secondo caso è un operatore logico di confronto perché in questo caso il nostro contatore viene confrontato con il numero 10 e questo operatore logico sta appunto ad identificare se è inferiore o uguale mentre per ultimo abbiamo il nostro terzo parametro che è il contatore che viene incrementato di 1 unità appunto utilizzando questo operatore logico proseguiamo diciamo al nostro ciclo for che vogliamo stampare a video il nostro valore di X in questo caso il nostro contatore parte da 0 e verrà effettuato il ciclo per 10 volte quindi fino a che il contatore non arrivi a 10 questo significa che nel nostro caso verranno stampate a video 11 righe perché verrà stampato anche appunto il numero 0 se vogliamo fare in modo che vengano stampato soltanto dall'1 al 10 dobbiamo far partire il nostro contatore appunto da 1 ecco qui anche se può sembrare molto strano il nostro ciclo è finito se noi andiamo sul browser a lanciare appunto il nostro script vedremo che cicla da 1 a 10 in questo caso ci abbiamo messi tutti quanti attaccati perché non abbiamo aggiunto nessun separatore di linee proseguiamo vediamo un attimino in questo caso avrei potuto aggiungere anche così per farvi vedere un attimino come se io lo rilancio ecco qui in questo modo diciamo si identificano meglio i vari valori lo stesso identico ciclo invece di utilizzare il ciclo for cioè la stessa identica procedura invece di utilizzare un ciclo for avremmo potuto utilizzare un ciclo while qual è la differenza while potrebbe essere semplicemente tradotto in italiano con la parola finché quindi iniziamo a scrivere il nostro codice finché x non è inferiore o uguale a 10 presente la nostra condizione che avevamo prima qui come secondo parametro del nostro ciclo for fai un qualcosa perfetto il nostro contatore x uguale a 1 in questo caso dovrà essere settato prima del while quindi x uguale ad 1 mentre il nostro terzo parametro appunto l'incremento del contatore dovrà essere inserito all'interno del while prima del ritorno prima della parentesi di chiusura quindi in questo caso avremo x più più e qui andremo appunto a scrivere i vari valori della variabile contatore x ecco qui quindi questo sarà il nostro codice con il ciclo while torniamo nuovamente al browser e rilanciamolo nuovamente sta caricando ecco come vedete non è cambiato nulla il risultato è esattamente lo stesso come per il ciclo for diciamo che questi cicli potranno essere poi più o meno utilizzati a seconda delle vostre necessità quindi magari ci sono dei casi in cui vi troverete meglio ad utilizzare il ciclo for piuttosto che il ciclo while o viceversa diciamo con questo esempio in realtà non c'è molta differenza magari in alcuni casi abbiamo già la variabile settata esternamente quindi rimarrà più comodo utilizzare un ciclo while piuttosto che un ciclo for continuiamo a vedere adesso il ciclo do while il ciclo do while può essere tradotto appunto come fai qualcosa finché in questo caso la condizione viene messa alla fine è una sorta del ciclo while che può essere visto come girato sotto sopra diciamo così in termini molto amichevoli nel senso all'interno del do cosa deve fare farà un qualcosa ops scusate farà un qualcosa che appunto sarà nel nostro caso questa parte qui e la condizione invece di stare all'inizio praticamente sarà gestita alla fine x resterà sempre fuori quindi ecco il nostro ciclo come le altre volte però creato con un ciclo do while quindi cosa significa in questo caso prima settiamo il nostro contatore uguale a 1 poi gli diciamo di fare questo qui finché x è inferiore uguale a 10 proviamo un attimino a lanciarlo all'interno del nostro browser come vedete il risultato è sempre lo stesso sempre il medesimo in questo caso diciamo molto simile all'while fondamentalmente ci permette di avere un'operazione diversa perché? perché facendo il controllo alla fine una prima volta viene sempre eseguito il codice quindi prima viene eseguito un primo ciclo diciamo così e poi viene messo in azione il meccanismo dei cicli se in questo caso avessi messo x uguale ad 11 e avessi aggiornato come potete vedere nel ciclo diciamo fuoriesce perché? perché il ciclo ci impone che deve essere torniamo un attimino al ciclo inferiore o uguale a 10 nel nostro caso invece facendo partire il contatore da 11 una prima volta viene eseguito comunque cosa che invece il while non avrebbe fatto perché il controllo sarebbe stato all'inizio invece in questo caso prima viene eseguito una prima volta e poi inizia a fare il controllo trovando 11 che è maggiore rispetto a 10 la condizione non è verificata e quindi il ciclo non viene effettuato tranne la prima volta quindi che x comunque viene stampata a video infatti nel nostro caso verrà stampato solo una volta il valore 11 come ultimo ciclo andremo a vedere il for each il for each è un ciclo che serve appunto per gestire le iterazioni sugli array quindi prima di iniziarlo a vedere vediamo un attimino brevemente la sintassi for each nome array come valore cosa significa semplicemente il for each scansiona l'array e per ogni valore che trova all'interno associato quindi alle varie chiavi dell'array ce lo restituisce direttamente sotto forma di valore di una variabile che è chiamata valore in questo caso quindi per prima cosa andiamoci a creare un array nome array uguale array aperta chiusa punta e virgola all'interno ci andiamo a mettere 1 pippo calcio uomo e donna perfetto in questo caso abbiamo aggiunto 5 valori all'interno del nostro array in questo caso quindi il nostro valore 1 avrà come indice l'indice 0 come abbiamo potuto vedere sulle precedenti lezioni pippo avrà come indice l'indice 1 e così via perché sappiamo che comunque gli indici partono da 0 quindi questo qui sarà 0 questo qui sarà 1 questo qui sarà 2 e così via quindi cosa fa il forage ci restituisce un valore per volta quindi ci restituirà prima 1 poi pippo poi calcio e così via e ci permette quindi di gestire i vari valori contenuti nell'array in questo caso possiamo scrivere eco valore eco valore punto e anche in questo caso ci mettiamo un ritorno a capo per migliorare poi la nostra leggibilità torniamo nel browser e lanciamolo nuovamente ecco qui che come potete vedere appaiono i nostri 5 valori elencati ma forice ci mette a disposizione la possibilità oltre che a rilevare il valore anche a rilevare l'indice del nostro array e quindi per farlo basterà aggiungere qui davanti un ulteriore variabile che in nostro caso chiameremo appunto chiave che conterrà il valore quindi torniamo nuovamente dopo la scritta eco e aggiungiamo chiave benissimo quindi in questo caso noi avremo ci mostrerà praticamente la chiave quindi 0 uguale 1 poi avremo 1 uguale pippo 2 uguale calcio e così via torniamo alla nostra finestra del browser e lanciamolo nuovamente ecco il risultato esattamente come ci aspettavamo per quanto riguarda i cicli è tutto spero vi sia piaciuta questa lezione perché sono molto importanti e sicuramente ne farete largo uso se continuerete con la programmazione PHP o anche in altri linguaggi perché comunque i cicli sono presenti in tutti i linguaggi di programmazione per oggi è tutto vi aspetto alla prossima con le funzioni